Un tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì sulla Due Mari poco prima dell'uscita di Monte Sanzavino in direzione Siena. Attorno alle 23 un'auto è finita fuori strada, andando a sbattere contro il guardrail. Per Giacomo Pazzagli, un 46enne residente a Monte Sanzavino, purtroppo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo per un trauma cranico. L'uomo stava torrando a casa a Monte Sanzavino dalla compagna e dei suoi tre figli, quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo dell'auto, una mini verde, che è finita fuori carreggiata contro il terrapieno ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. A dare l'allarme attorno alle 23 un'ambulanza che stava effettuando un trasferimento all'ospedale di Siena, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamieri sanitari del 118. Sulla dinamica dell'incidente stanno portando avanti gli accertamenti carabinieri di Monte Sanzavino. Giacomo Pazzagli era molto conosciuto ad Arezzo per anni, proprietario della bottega di Gragnone, attivo quartierista di Porta Santo Spirito che lo ricorda sulla pagina Facebook con dolore. I funerali saranno celebrati venerdì 24 febbraio a Saione nel pomeriggio alle 15 e la sepoltura avverrà al cimitero della misericordia di Monte Sanzavino. La camera ardente è stata allestita al San Donato. Grazie. Grazie.